Buongiorno, buonasera a tutti, benvenuto in un mio nuovo video. Oggi vorrei commentare e fare qualche analisi, sull'episodio 96, di Dragon Ball Super. Finalmente il campo è finito, e i quattro universi non partecipanti sono già lì. Gli dei guardano il campo e pensano che non resisterà, ma il gran sacerdote dice che il campo è fatto con un materiale, il più resistente che esiste. Il gran sacerdote chiede se vogliono testarlo e, solo Ivan, Liquir e Arak accettano, Jin rifiuta. Alla fine del test il campo è distrutto ma così facendo, il gran sacerdote ha potuto sapere in che zone del campo va migliorata la costruzione, ma tocca ai prede della distruzione costruirlo dato che lui è occupato ad aprire i portali. Sulla terra finalmente Freezer incontra tutto il team, dopo varie frecciatine tra lui e Vegeta. Shin spiega la sua strategia, cioè all'inizio devono, stare tutti insieme e conservare le forze, e combattere sempre insieme se un nemico si avvicina e mai da soli, subito dopo, partono per il mondo del nulla. Notano subito che gli dei della distruzione, stanno costruendo il campo, non sapendo che pochi minuti prima l'avevano distrutto. Nel frattempo che arrivano gli altri universi, notano la profondità del mondo del nulla, dato che non si può volare, testato da Goku, che succede se cadono giù? Io credo che verranno teletrasportati sugli spalti dato, che sono davvero grandi, per solo gli dei, Angeli e Kaioshin. Ovviamente chi ha le ali può volare. Il ring per aiutare i partecipanti, ha la stessa gravità del pianeta in cui vivono. L'universo 6 è arrivato e fra Frost e Freezer c'è uno sguardo di intesa. Infatti dopo poche scene iniziano a parlare tra di loro, e decidono di collaborare. Ed ecco che arriva l'universo 11 e tutti si spaventano della terribile energia che sprigionano. Oh ma questo tizio sembra impmo. Goku va a salutare Topo e vede Jiren che si sposta dietro di lui senza che, Goku se ne accorga. Gli dei velocizzano la ricostruzione dato che sono arrivati tutti. E i partecipanti schivano con difficoltà i blocchi, ma Jiren, li schiva senza muoversi. Ora conosciamo e analizziamo i team dei vari universi. Universo 2. A parte la sua somiglianza generale e Lilde, di Giti. Lui Andrade che a quanto pare esiste anche in altri universi, e aumentando la luminosità possiamo vedere i due guerrieri nell'ombra. Non male, io credo che queste tre si trasformino proprio, come fa Brienne. Universo 3. Ci sono molti robot, come ci aspettavamo, ma lui? Sembra Baby. Sono molto curioso. Universo 4. Ma sono solo 8? O come dice Tenzing gli altri due sono invisibili? E lei assomiglia molto alla razza di Jin? Universo 6. Li conosciamo tutti, tranne quel cinghiale. Ma sono 8 pure loro? No, se aumentiamo la luminosità, possiamo notare dietro it, due guerrieri, e quello alla destra di it mi sembra, proprio un nameciano. Universo 7. Lo conosciamo benissimo. Universo 9. A parte il trio dei pericoli. Non mi sembrano granché. Universo 10. A parte due tizi che volano. Mi sembra che forse useranno molti stili di combattimento. E questo assomiglia molto a Roberto, di Futurama. Universo 11. Beh conosciamo Toppo, Caseral, Dispo, e Giren, ma sono curioso degli altri. Spero che non mi deludano. Nel prossimo episodio il torneo del potere inizierà. Il video è finito grazie per averlo visto, non dimenticate di mettere mi piace, commentare e condividere, se volete iscrivetevi per supportarmi. E non dimenticate di mettere mi piace alla pagina Facebook. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.